La bioimpedenziometria rappresenta l'unico esame in grado di valutare in modo specifico la quantità di acqua totale presente nel corpo e di rapida esecuzione, infatti dura meno di 5 minuti, non è invasivo ed è innocuo. Si effettua applicando 4 elettrodi sul corpo del paziente, posti sulla mano e piede destro, che permettono di indurre il passaggio di una lieve corrente elettrica, innocua e non avvertibile dal paziente. La resistenza che viene opposta dai tessuti al passaggio della corrente elettrica permette di determinare la composizione corporea, ovvero la quantità di acqua, massa grassa e massa magra presente nel corpo. È importante conoscere lo stato di idratazione ed intervenire modificando l'alimentazione, perché l'acqua, oltre ad essere uno degli elementi principali del nostro corpo, influenza tutte le funzionalità. Per esempio, contribuisce ad eliminare le tossine, aiuta l'assorbimento dei nutrienti e la digestione, regola frequenze battito cardiaco ed è fondamentale per mantenere costante la temperatura. Attraverso l'esecuzione della bioimpedenziometria è possibile quindi determinare lo stato fisiologico e nutrizionale del paziente, ma anche valutare l'effetto di alimenti funzionali e nutraceutici sulla ritenzione idrica, di cui tanto si parla, oppure sul muscolo.